smettila di pubblicare foto dei tuoi figli online oggi un daily cogito molto importante il cui argomento verrà introdotto da questo spot di deutsche telecom che deve diventare ancora più virale adesso lo spot e poi ne parliamo insieme oh Ciao! Hey mom, hey dad It's me, Ella Well, a digital version of me Just a bit older Amazing what technology can do these days, isn't it? All you need are a couple of pictures Like the ones you share on social media Where they can be taken And used By everybody I know for you these pictures Are just memories But for others, they are data And for me Maybe the beginning of a horrible future A future where my identity can be stolen Just like that Where I can go to prison For things that I would never do Imagine my credit score Being destroyed, dad Or my voice copied to scam you, mom Mom, I'm in trouble I need you to send me money, please I don't want to become a meme Humiliated by everyone at school Kill yourself, you fucking loser And I certainly don't want This What you share online Is like a digital footprint That will follow me around For the rest of my life I'm telling you this Because I know you love me And would never do anything to harm me So please, mom Please, dad Protect my virtual privacy L'apocalisse zombie Non è un pranzo di gala E si combatte Un dei ricongitor Alla volta In questi giorni Ho sentito un'intervista A Fedez Il quale a un certo punto Tratta dell'argomento Dei propri figli Dicendo Ora io voglio Proteggere i miei figli E non voglio più pubblicare Immagini, video e foto Di loro Perché ovviamente Li vuole tutelare La domanda che sorge spontanea è E prima? Tutte le immagini di prima? Non li volevi tutelare prima? Adesso che c'è questa separazione Da Chiara Ferragni Allora arriva la tutela Ecco La tutela dei minori Online Non è un'azione A targhi alterne E vorrei Oggi Parlarvi di questo argomento Perché mi sta molto a cuore E devo dire Che lo spot Deutsche Telekom Mi ha fatto venire La pelle d'oca Quando l'ho visto Perché dice una cosa Vera Verissima Le conseguenze Del nostro narcisismo online Quello che ci porta A pubblicare foto Di bambini Minorenni Senza consenso Per acchiappare Qualche like in più Avrà delle conseguenze Molto Molto Pesanti Ora io non voglio Fare il catastrofista Sapete che non mi piace Fare la Cassandra Però Sono cose che già Stanno succedendo Negli Stati Uniti Abbiamo già visto Dei casi In cui i figli Ora maggiorenni Hanno querelato I genitori Perché Quando erano minori Hanno pubblicato Foto online Distorcendo La loro capacità Di gestire Autonomamente La propria immagine E la percezione Che la società Ha di loro Questo avviene Anche senza Le grandi manipolazioni Perché Lo spot Di Deutsche Telekom Parla di una cosa Molto Molto pesante Viviamo in un'epoca In cui Internet È Legato A tecnologie Fra L'intelligenza artificiale Il face morphing E tante altre cose Software che possono Manipolare L'immagine di tutti Con grande facilità Tecnologie che possono Veramente distorcere L'immagine Che abbiamo Di noi stessi E che gli altri Vedono di noi E questo avviene Anche da adulti Cioè La mia immagine Di persona adulta Ora è dappertutto Se uno volesse Prendere la mia faccia E farmi dire cose assurde Completamente fuori di testa Contrare a quello che penso E farmi fare anche cose Che magari violerebbero La legge Prendere la mia voce E utilizzarla A proprio piacimento Potrebbe farlo Ma Io Sono adulto Sono Consenziente Anzi sono io Che voglio mettere La mia immagine Online Mi prendo le responsabilità Di questo Mi espongo ai pericoli Questo di nuovo Avviene già con gli adulti Tante facce Di persone famose Vengono usate Per filmati pornografici Tante foto Che pubblichiamo Da adulti Vengono poi Distorte Decontestualizzate Per farci fare Dire E mostrare Cose che non faremmo mai E questo porta A dei fastidi Non indifferenti Ecco Prendete tutto questo problema E moltiplicatelo Per mille Quando decidiamo Soltanto perché Vogliamo farci belli Di fronte alla cerchia Di amici online Di pubblicare foto Di nostri figli A sette A nove anni A dodici Quindici anni Figli che non ci hanno dato Il consenso Che non capiscono Gli effetti Di quella cosa Che magari partecipano Alla gioia Dei genitori I quali vivono Quella pubblicazione Come se mostrassero Le diapositive Ai propri parenti Ai propri parenti Quando invece Ci si espone A un disastro E quel disastro È la violazione totale Della privacy Ma soprattutto La violazione Della capacità Futura Dei nostri figli Di gestire La propria immagine Foto in cui si vede Il parco in cui giocano La scuola che frequentano Foto in cui si vede L'ambiente In cui viviamo In cui vivono Quindi esponendoli Non soltanto Al pericolo mostrato Dallo spot Di Deutsche Telekom Ovvero La loro immagine Viene utilizzata Da altre entità Discretamente malevole Rischiando di rovinare Parte del loro futuro Ma esponendole Anche a pericoli reali Lì fuori ci sono persone Che non hanno esattamente I desideri Più irreprensibili Del mondo E che potrebbero dire Ah Il figlio di questo Va a quella scuola In quel parco Vi rendete conto Di quanti casi Iniziano così E quanto siamo Incoscienti A non essere Prudenti In merito A questa questione Ma ancora di più Noi abbiamo visto Un caso Metto il link In descrizione Proprio qualche mese fa Di mamme Che negli Stati Uniti Utilizzavano le foto Dei loro figli Per pubblicarle Sotto abbonamento In Instagram A beneficio Tra virgolette Di comunità Di persone Appassionate Di pedopornografia E queste persone Le facevano Per un guadagno Spicciolo Ecco Noi Siamo esposti Allo stesso pericolo Allo stesso comportamento Ma per guadagnare Qualche like In più Ora Questo È un problema Massificato Sono pochissime Le persone Che io vedo Che usano Consapevolmente Questi mezzi E quindi per esempio Pubblicano foto Su Instagram Ma mettendo L'oscuramento Del volto Cercando di Mascherare I luoghi Sono accorgimenti Neanche così Pesanti Ma in realtà Poi basterebbe Fare una cosa Fondamentale Eliminare La vita privata E possibilmente La presenza Di minori Dalle nostre pubblicazioni Eliminare Quella tendenza Che rischia di essere Devastante Per la loro vita A pubblicare La loro immagine Senza il loro consenso O pensando O pensando che La loro contentezza Di essere In un post Di Instagram Di mamma e papà Sia consenso Non lo è A 18 anni 19 anni 25 anni Tuo figlio Tua figlia Rendendosi conto Che la sua immagine È stata distorta Decontestualizzata Utilizzata Per fini malevoli Perché tu Non l'hai protetta Potrebbero E avranno ragione A farlo Rivoltarsi contro di te E fartela pagare Di nuovo Non sto esagerando È quello che sta succedendo In alcuni casi È quello che succederà A molti Fra 10 15 anni 5 anni Perché Perché in realtà Il genitore ha mancato Uno degli scopi fondamentali Proteggere Il futuro E l'autonomia Del proprio figlio O della propria figlia Bisogna Cercare di essere Prudenti Su queste cose Perché i pericoli Sono tanti E lo so che Quando Ci mettiamo a pubblicare Le foto online Pensiamo che Basti mettere il filtro Solo amici stretti Per Proteggere I nostri ragazzi Ma non è così Non è così E per quanto sia comprensibile Il fatto di Voler Mostrare a tutti Quanto è bello Mio figlio Quanto è bella Mia figlia Che bella famiglia C'ho Quanto felice sono Quanto si divertono Per quanto sia comprensibile È una tendenza Che bisogna combattere E se proprio Vogliamo Dare sfogo A questa tendenza Beh allora Avere i minimi accorgimenti Qualsiasi smartphone Adesso ha l'editor foto Che ti permette di blurrare i volti Automaticamente Di oscurare Targhe Vie Luoghi Per quanto poi comunque Ci sia sempre un margine di rischio A cui ci si espone Pubblicando le foto Della propria vita privata Bisogna essere Prudenti Io non lo dico Io non lo dico di nuovo Per catastrofismo Lo dico perché Alcune cose Già stanno succedendo E Eventi Quali il revenge porn O di nuovo La pedopornografia Vengono alimentati Da queste cose E già Le conseguenze Sono terribili Quando lo facciamo Da adulti Consenzienti Quante volte Succede che Qualcuno Si scambia Foto Filmati Di vita privata E quella cosa Poi si rivolta contro Già succede Continuamente I tribunali Sono pieni Di casi Legati al revenge porn Pedopornografia E altre cose simili Ecco Immaginate Quando poi Viene coinvolto Un minore Che è tuo figlio Che a un certo punto Della vita Si accorgerà Che tu Non lo hai Protetto Da questo mondo Che vuole Usare la sua immagine Per scopi Che esulano Dalla sua capacità Di autodeterminazione Ma che tu Li hai esposti Li hai esposti Li hai messi in pericolo Perciò Cerchiamo Di limitarci Cerchiamo Di frenare Questa tendenza Che di nuovo È una tendenza Per avere Un like In più Per mostrarci Fighi Belli Fortunati Lo siamo Senza bisogno Di mettere A rischio Repentaglio Il futuro Dei nostri figli Le foto E i video Dei minori Online Bisogna Non metterle Metterle Il meno possibile Con tutte le precauzioni Del mondo Altrimenti Abbiamo buon gioco A lamentarci Del fatto che I social Sono brutti Usati male E ho le stesse persone Che sento lamentarsi Di Cambridge Analytica Poi mettono foto Dei minori online Ecco mi sembra Veramente schizofrenica Questa cosa Riguardate Lo spot Di Deutsche Telekom Perché dice Delle grandi verità Prendetelo Lo metto in descrizione E diffondetelo In giro E dite Anche ai vostri amici Non pubblicate Le foto Di vostri figli online Se proprio volete Mostrarci i figli Quanto sono belli Venite a casa nostra E ci facciamo Una bella festa In privato Fra di noi E ci guardiamo Le diapositive Delle vacanze Torniamo quindi Agli anni 90 Facciamo i boomer E proteggiamo L'immagine Di nostri figli Ecco questo è tutto Non voglio fare Altri discorsi Mi sembra che Tutto quello che ho detto Si vada A contestualizzare Già in modo Molto chiaro E niente Smettila Di pubblicare Foto dei figli Sui tuoi social Grazie mille Per l'ascolto Buona giornata E ci vediamo Alla prossima